capitolo 3 questo mercoledì di settembre Sean è back vicino a Magsburgo sembra matto le gazzette con le sigla francoboli monete ha chiuso per due ore come la maggior parte degli altri esercizi anche nella retrobottega dove fino a poco prima era tutto un movimento a regna la cava Alan scendicava appoggiata la testa sulla spalla di Lawrence tirano leggermente la lenzuola per coprire i loro corpi sudati e entrambi tacciano solo qui al contempo dalla sua parte come è accaduto spesso negli ultimi mesi Alan ha approfittato dalla pausa pranzo per avere il suo amore tutto persano quando l'orario di lavoro glielo permette l'infermiera percorre di nascosto i 20 km che separano Magdeburgo da Sean e Beck deve essere doppiamente cauta è lì che vivono tanto la sua madre quanto la moglie di Lawrence in realtà lui vuole separarsi ma vive ancora insieme a lei dunque siamo nella mia scola stanzetta nella retrobottega dal suo ragazzo filatelico aridata con una misera brandina e una sala sedia ma Alan è felice ama quell'uomo alto e magro dai capelli castano chiari impossibili da pentinare l'ha visto per la prima volta l'anno prima di sfuggita nella sala d'aspetto dalla stazione voleva andare a Magdeburgo con la sua amica Gisela per capriccio entrare nel suo stesso scompartimento lo trova subito simpatica non le era sfuggito all'anno nuziale tuttavia le aveva lanciato qualche altro sguardo furtivo senza malizia prima di scendere l'uomo le aveva detto arrivederci e lei aveva risposto ah certo arrivederci con una lieve intonazione tutto qua qualche volta Alan andava con gli amici a ballare allo stagio praga prendeva il suo lavoro sul serio ma era anche molto giovane aveva appena 22 anni e le piaceva ballare erano già tardi e volevano tornare a casa gli amici erano andati a prendere i cappotti e Darren era rimasto da solo al tavolino quando l'uomo entrò nel locale quello lo conosco pensò anche lui rimase un attimo interdetto poi si è vicino al tavolo balliamo per tutta la durata del foxtrot erano in un silenzio a colma di tensione mentre i due concentrati pensavano alla stessa cosa poi lui sbattò ci sono sul treno ci sono sul treno scusate allora anche Anna si ricordò gli amici se ne andarono lei è rimasa Lawrence le accarese i cappelli e lei lo strisce ancora più forte sono innamorati come nelle favole hanno una lingua tutta l'ora allo stadio però attirano l'attenzione provando passi azzardati e i loro corpi su quella bradina aggeriscano alla perfezione uno dentro l'altro purtroppo però la vita non è una favola lui ha la feda al dito ma insomma vuole chiedere il divorzio dopo tre mesi che si frequentano un'altra confessione Elk aspetta un bambino da me chi è Elk? giura che è stato un caso la ragazza per lui non conta nulla si erano appena conosciuti in una sala da ballo lei era abbronzatissima eccetera eccetera ora incinta vuole tenere il bambino che si fa? così non puoi andare avanti all'avverto Gisela la ragazza con cui divita la stanza nella residenza per infermiera andrà a finire male dov'è la testa? una sera a cena le nasconde persino la chiave della stanza perché non vado da lui un litigio che si era ridicolo Elena la magna mette le sue scarpe rosse e raggiunge Lawrence è ovvio la spera in una cosa seria voglio stare per sempre con lui pensa e sgomenta in fondo non è mai stata così innamorata a volte però lo sente lontano la mia piccola compagna osserva sprezzante quando nota la spila del partito sul bambino lei non ne fa una tragedia certa gente è così vuole tutto e non è disposta a fare nulla per ottenerla una volta in presenza di Elena Lawrence compra un album da una vecchia signora e da 100 marchi per spodere in grida di giubilo ho fatto un'ottima affare per quell'album mi daranno almeno mille marchi Elena è scioccata è una truffa non ci si dovrebbe comportare così si alza giustandosi la pettilatura e si infila il vestito bordeaux ma è una gran bella ragazza magra alta con un seno prosperoso ha il volto affilato le sopracciglia gli occhi e la bocca è carnosa e la mania tra loro i costrotti visi ci sarebbero andati a noz senti ti sembrerà stupido ma temo di essere incinta che sciocchezza risponde Lorenz divertito come lo sa chi ha l'infermiera soprattutto del corpo umano una settimana dopo le sarebbe dovuto venire il ciclo niente Elena prende appunto a metà il reparto ginecologia dell'ospedale in cui lavora quando tocca lei sale di cose sull'ecchino il medico controlla se lei si è ingressato all'utero scrive qualcosa e poi chiude il libretto sanitario insomma Elena non c'è nulla da fare il risultato è evidente lei è sposata no risponde Elena alibita ma riesce ad aggiungerla perché perché la cicconia è già in viaggio Elena salta su parte di gioia ma che cicconia sa persino la data esatta dal concepimento il 26 settembre 1959 batte le mani e gli occhi le si riempiono di lacrime è raro che una donna nubile reagisca in maniera così euforica scoprendo di essere incinta nella DDR per i bambini nati fuori dal matrimonio la vita è molto più semplice che nello stato di Adenauer i figli servono a costruire il socialismo più ce n'è meglio è qui pensano loro qui pensano a tutto loro immaginano asilo nido scuola materna tutto Elena potrà continuare a lavorare d'accordo Lorenz è sposato e ha messo in cinta anche a Erk ma è stato più che altro un incidente la solita debolezza degli uomini non le ha forse detto se avrò un figlio sarà solo da te lo aveva dichiarato più volte in pratica glielo aveva giurato non c'era motivo di preoccuparsi Mattias Frings l'ultimo comunista